Come state? Un saluto a tutti, ben ritrovati, un buon pomeriggio, tardo, serato, mattina, a seconda di quando vedete questo video. Vi ricordo come sempre di commentare a numerosi, di lasciare un bel like, se volete che questa società si dia una bella, ovviamente in termini, diciamo così, metaforici, una bella svegliata, una bella sveglia per tutti, sveglia! E iscrivetevi qui, attivate la campanella, iscrivetevi anche nel mio canale personale che vi metto qui sotto nel link e se volete prendervi cura del vostro benessere, in questo momento per i milanisti forse serve, andate su brichicazzaniga.it, qui sotto c'è il link, ve lo consiglio il caro amico Maurizio con la sua famiglia, stasera tra l'altro dovrei vederlo in un'occasione speciale, cura insomma il benessere di migliaia di persone da quasi 40 anni. In via Murat, poliamburatorio, odontoiatria, medicina estetica, antiaging, osteopatia, fisioterapia e non solo, se avete bisogno qui sotto si prende cura del vostro benessere, approfondite perché è molto interessante, qui sotto vi metto il link. Spero di incontrare Maurizio stasera in questo evento speciale. Allora ragazzi, settimanalmente abbiamo anche questo focus legato ai nostri giocatori. Sia scorsa per primo ho voluto fare un bilancio su Christian Pulisic, Capitano America, ed è stato molto positivo, con la pecca che nelle parti, e non è poco effettivamente, però il giudizio come è molto positivo, nei big match lui non ha fatto la differenza un granché, un po' in generale come il Milan ha faticato nei big match, questa è la pecca su cui bisogna lavorare. Si ripete una stagione in termini realizzativi come la scorsa, molto bene. Oggi in un minutino vorrei commentare a Ruben Loftus-Cic, che ricordiamo non è andato, non andrà agli europei perché non è stato convocato, egoisticamente per noi è una bella notizia, così che si riposa, riparte carico, non rischia di farsi male, perché lui sapete che è soggetto spesso a degli stop. Ebbene il mio giudizio è positivo, non come Pulisic un po' sotto, per me è comunque stata una stagione da 7, perché quando tu fai 6 gol e 2 assist in Serie A, quando fai 4 gol in Europa League, arrivi con 40 gare, quindi hai avuto pochi problemi, 10 gol e 2 assist, il tuo lo hai fatto bene. Per me è 7, ecco la speranza che con Fonseca possa entrare un po' di più nel gioco, perché in quella posizione lì, dove lo faceva giocare Pioli, magari aveva possibilità di inserirsi maggiore, ma era abbastanza fuori dal gioco, tant'è che ogni volta io andavo a vedere il numero di tocchi ed erano sinceramente pochi, toccava poche palle. La speranza è che Fonseca lo riporti un po' più nel gioco, non so se magari lo riporta a mezzala e lo abbasso un po', però ecco, lui ha fatto un'ottima stagione, deve essere secondo me meglio collocato da un punto di vista tattico. E poi ragionando insieme a Voceata come ci piace fare, credo che a centrocampo non basti soltanto la pedina alla Fofanà, cioè il giocatore difensivo da piazzare lì. Secondo me sarebbe giusto provare a portare anche un giocatore eclettico come mezzala che dia vivacità, dinamismo e che possa alzare ulteriormente il livello. Ad esempio, su Adli e Pobega, a malincuore qualche riflessione io la farei. Ecco, quindi non solo quello che gioca in mezzo, sperando di ritrovare un bel Benasser se resta, ma anche magari qualcosa lì. Sapete che Frentura mi farebbe impazzire. Quindi Ruben direi bene, però è un lavoro che Fonseca dovrà fare su di lui, secondo me, per metterlo un po' più nel gioco. Voglio partecipare un po' di più al gioco, altrimenti rischio un po' di, ripeto, di perdere qualcosa da quel punto di vista. Fonseca, l'annuncio, mettiamo pure la Klesidra, è in arrivo, c'è qualcuno che mi scrive ancora, ma non è che non è Fonseca, ma come, non doveva essere? Dovrebbe essere la prossima, la settimana dell'annuncio di Fonseca e da lì, di conseguenza, un po' tutto, come il riscatto meno di Jovic e altre operazioni. La prima sarà, appunto, l'annuncio di Fonseca, la prossima settimana, magari già lunedì della prossima settimana, però la Klesidra c'è e Fonseca poi dovrà partire contro i favori del pronostico e dovrà essere la brava la società a difenderlo, ma la società oggi, secondo me, non è stata un gran che è brava. Vediamo cosa succede. Poi, capitolo legato a Teo Hernández, ieri ha pubblicato una foto di lui con la maglia di Real Madrid, facendo i complimenti alla sua ex squadra per la vittoria della Champions League, e sinceramente qualcuno, magari con un po' di malizia, ci ha visto qualcosa di strano, nel momento in cui lui potrebbe andare anche lì, io sinceramente non ci vedo nulla di male. Dopodiché risulta che lui davvero sogna di tornare a Real Madrid e credo che i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Real prenderà Alfonso Davies, se Alfonso Davies invece rinnoverà con il Bayern Monaco e a quel punto potrà tornare prepotentemente in auge l'ipotesi Teo Hernández-Real Madrid. Su Teo, ragazzi, volevo leggervi una frase secondo me significativa di Deschamps, che l'ha avuto e ce l'ha, insomma, ce l'avrà anche per il ritiro, per l'europeo. Domanda il futuro di Teo Hernández. Lui dice, Rabiot, so che è felice la Juve. Altre offerte, ma è felice la Juve. Teo Hernández, il futuro, lui non è che diceva, ma è una cosa che non mi riguarda. Tra l'altro contesta l'amichevole del Milan fatta in Australia, perché dice, in pieno ritiro, non è giusto. Avremmo fatto volentieri a meno anche noi, per com'è andata. Lui dice, ne abbiamo parlato a marzo con Teo Hernández del suo futuro. A marzo hanno parlato del futuro di Teo. In generale non c'è lo stesso entusiasmo della stagione dello scudetto, ma mi sembrava fosse felice al Milan, dove ha fatto pure il capitano da straniero. Ecco, tra le righe... Intanto qualcuno scrive nei commenti, già che glielo chiedono, puzza. Vabbè, glielo chiedono perché il tema purtroppo Teo c'è, lo sapete, ne abbiamo parlato. Tra le righe mi sembra molto meno caldo rispetto a quando parla di Rabio a Juve, che magari va via, eh. Fa capire, ne abbiamo parlato a marzo, in generale mi sembrava non ci fosse lo stesso entusiasmo della stagione dello scudetto, ma mi sembrava fosse felice al Milan, dove ha fatto pure il capitano. Non lo so. Diciamo che a me, nel dubbio, mi dà una conferma in più di quello che ci è arrivato, cioè che lui ritiene purtroppo finito il suo ciclo al Milan e vorrebbe andare via. Sull'entusiasmo, ragazzi, è evidente. Abbiamo visto spesso quest'anno, in particolare nella prima parte, un Teo Hernandez apatico. Lo vedevi e non traspariva neanche emozioni. Io nell'ultima parte lo vedo invece più sereno, molto più sereno. Non so se è più sereno perché sa che la sua decisione l'ha presa o per qualcos'altro, però lo vedo anche a livello visivo molto più disteso rispetto a prima che era incupito. e Deschamps, che ci ha parlato a marzo, e se parli già a marzo del futuro c'è qualcosa di cui parlare, secondo me fa capire che lui non è più tanto contento, ma questo purtroppo lo sapevo già. Quindi attenzione alla pista a Teo Hernandez, vediamo se decolla nei prossimi giorni, e l'intrigo ovviamente con Alfonso Davis, che vuole il Real Madrid, ma non ha detto che il Real Madrid lo porti a casa. Chiedo scusa. Poi, ragazzi, a brevissimo sarà pronto il video del podcast di Marco Van Basten. ogni tanto mi sto vedendo le ultime cose per le modifiche. Pensate che mio figlio, che ha sei anni, li ha fatti ieri, mi chiede la caviglia, ma come mai, come faceva poi a camminare con il primo la caviglia? Fa fantastico. Lui che conosce già la storia di Marco Van Basten, che tra l'altro arriverà nei prossimi giorni a Milano. Chiedo scusa. Proseguendo nel video, capitolo attaccante. Come diciamo sempre, ed è uno dei cavalli di battaglia di Leonardo Martinelli, l'attaccante, la potenza di fuoco, l'ambizione di questa società si vedrà da due cose. Allenatore e attaccante. L'allenatore, ce lo siamo giocati, non dimostra ambizione, poi se vince siamo tutti contenti. Faccio un Milan Club Fonseca, se ci fa vincere. Dall'altra parte l'attaccante. E qui, ragazzi, non ci dovrebbe essere discussione diversa. L'attaccante, da mo' che deve arrivare. Se ci guardiamo alle spalle, vediamo la scorsa estate, dove alla fine arriva Jovic, all'ultimissimo. Se ci guardiamo alle spalle, torniamo a due anni fa, anche lì dovevamo prendere l'attaccante. E questa volta non bisogna guardarsi attorno, bisogna prendere l'attaccante con la maiuscola. Quello che ti cambia la vita. Quello che serve. Ricordiamo che oggi non ha ancora rinnovato neanche Origi e Origi, neanche Jovic, e avremmo appunto Origi e Colombo e Okafor come potenziali numeri nove. Ovviamente non saranno loro. Okafor ci sarà sicuramente. Gli altri due non credo proprio. Detto questo, attenzione, perché il rischio di fregatura purtroppo è dietro l'angolo. Inizio a sentire puzza di bruciato. Non inizio a sentirlo io. Lo iniziano a sentire anche oggi anche colleghi specializzati in calciomercato, generalista, quindi non soltanto i milanologhi, sul fatto che e Zirze e Sesco e Sesco e Zirze è un attaccante fortissimo e l'attaccante lo prenderemo, sarà fortissimo e la priorità è la punta, il centravanti, eccetera, eccetera e Moncada era al Dallara a vedere Zirze due o tre volte. Ibra incontra Zirze con Moncada e questo è agli atti. Poi c'è Sesco o incontri la gente. Dai, o uno o l'altro va bene, dovremmo essere poi molto contenti. Attenzione perché nel frattempo come dicevo qualche giorno fa anche oggi i colleghi di mercato ci raccontano che Zirze si allontana dal Milan. Dall'altra parte Benjamin Sesco forse si è già allontanato dal Milan perché costa e probabilmente andrà in Premier League. Costa, costa uno, costa l'altro e i soldi da una parte e i soldi dall'altra parte. Però i soldi ci sono e andrebbero spesi per fare qualcosa che ti serve da tempo. Se salta Zirze ragazzi e in questo momento è probabile non si può liquidare la cosa così. se salta Zirze significa che tu da novembre-dicembre a giugno per sei mesi hai trattato un giocatore e dal Milan usciva cauto ottimismo per poi non prenderlo perché? Perché la commissione lo sapevi anche prima che c'era. Chi ha i Rob Chan sai come lavora. Se non te lo porti a casa hai fallito un obiettivo e il discorso economico non può essere una spiegazione perché lo sapevi prima diventa poi una scusa eh come fai ci chiedeva non è che te l'hai chiesto ieri da tempo lo sapevi non vorrei che tu hai fatto credere eh io volevo ma non potete dirci nulla ci abbiamo provato però di fronte a certe cose per poi arrivare a perché la sensazione oggi è questa purtroppo che il Milan andrà su un piano alternativo quindi dopo mesi di Zirze Zirze e Ibra incontrato e fiducia eccetera 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 arrivi con un'alternativa che poi magari sarà anche migliore in termini realizzativi ma significa che tu per sei mesi hai lavorato a vuoto o male se non arriva a Zirze se arriva benvenga anche se non è forse il mio attaccante ideale per caratteristiche che serve al Milan se arriva Sesco va bene ma da Zirze Sesco in giù anche qui tu questa volta hai guardato il fattore economico e non hai fatto quel passo che in qualche modo dovevi fare e avevi anche promesso quindi poi i David i Ghirassi i Gimenez i Elnesiri tutti questi qui che non ti cambiano la vita probabilmente e quindi ragazzi sento puzza di bruciato però non sarebbe una cosa del è andata così no no perché la misura per queste cose qui per tutti credo che sia un po' colma e dopo l'allenatore discreto anche l'attaccante discreto significherebbe progetto discreto sbaglio? ti temi che ne pensate commentate numerosi qui sotto lasciate un bel like iscrivetevi qui attivate la campanella iscrivetevi anche al mio canale persone che è ci sotto qui nel link in descrizione lasciate un like se volete una società ambiziosa come lo è ogni tifoso del Milan un abbraccio